Le stelle di Azus Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di domenica 30 giugno. Ariete, una bella luna che vi permette di vivere una domenica piacevole. Sono ottimi i rapporti sociali e familiari, avrete voglia di concedervi qualche piccolo lusso. Toro, inizierete la giornata senza entusiasmo. Sarete pigri con la voglia di continuare a rigirarvi nel letto. Con il passare delle ore migliorerà l'umore. Gemelli, luna e venere in ottima posizione. Sarà una domenica interessante per l'amore e i rapporti familiari. Anche i nuovi incontri si riveleranno subito coinvolgenti. Cancro e i rapporti sentimentali sapranno darvi il sostegno di cui avete bisogno, anche per essere rassicurati su alcuni conti che non vi tornano. Leone, in avvio di giornata sarete molto attivi, pronti a partire per una breve gita o decisi ad indossare un outfit sportivo per fare un po' di attività fisica. Vergine, sarà una domenica interessante, in cui vi ritroverete a condividere il vostro tempo con delle persone piacevoli, capace di trasmettervi allegria ed entusiasmo. Bilancia, avete bisogno di recuperare energie, quindi sarà bene organizzare qualcosa di rilassante, come una giornata sulla spiaggia, spalmati su un lettino. Scorpione, siete molto affascinanti, spesso irresistibili con questa venere così disponibile. Non vi sorprendete se qualcuno si dimostrerà molto interessato a voi. Sagittario, la luna vi permette di vivere questa domenica in maniera spensierata. Sarete liberi di fare ciò che vi piace coinvolgendo chi amate nei vostri piani. Capricorno, dopo una mattinata che vi vedrà impegnati in famiglia, sarete liberi di ritagliarvi uno spazio tutto per voi. La luna che passa in toro alimenta la passione. Acquario, vi sveglierete di buon umore, pronti ad organizzare qualcosa di speciale per questa domenica che vi proietta in un'estate ricca di colpi di scena. Pesci, avete ritrovato la serenità che per lungo tempo vi è mancata. Ora vi state godendo questi momenti felici e fate bene perché certe occasioni potrebbero non ripresentarsi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.